SID Sistemi Software e servizi per aziende e professionisti Con i software della Sistemi Torino e un team di 20 professionisti, la SID Sistemi è in grado di offrire un pacchetto informatico a 360 gradi, dall'hardware al software, dalla sicurezza informatica alla formazione del personale. A supporto della sua attività principale con la divisione aziendale dedicata alla formazione finanziata, la SID Sistemi eroga a studi professionali e imprese corsi di formazione gratuiti a favore dei loro dipendenti, senza anticipazione finanziaria. SID Sistemi, la scelta giusta.